E' iniziata da ieri sera la preparazione alla festa in onore di San Prisco, patrono della diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Dopo la celebrazione eucaristica, una breve processione ha visto l'immagine del santo portata dalla chiesa cattedrale del Vescovado di Nocera fino alla cima del borgo. Un momento per sollecitare la partecipazione corale, il pellegrinaggio sulla tomba di San Prisco per affidare a lui preghiere, speranze e invocazioni, richieste di grazia. Abbiamo alzato il quadro di San Prisco per dare questo segno a tutta la città di Nocera Inferiore ma anche a tutto l'agro nocerino sarnese che il santo patrono non si dimentica di loro e che soprattutto in questi giorni di preparazione alla festa i fedeli tutti di Nocera e dell'agro non si dimentichino del santo patrono. L'invito è quello di venire qui, al Vescovado, nella chiesa cattedrale per pregare sulla tomba di San Prisco, per invocare da lui le grazie e i miracoli che desidera il cuore di ciascuno, soprattutto la serenità nelle famiglie, la pace, il lavoro per chi non ce l'ha e la salute per quanti purtroppo soffrono. L'augurio è che la nostra fede e la preghiera di San Prisco presso il Padre faccia ottenere a tutti quanti noi quello che desideriamo e portiamo nel nostro cuore. Auguri a tutti e buona preparazione alla festa di San Prisco.